Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Spero molto molto bene, oggi sono qui solo per voi, per fare un video che non avevo mai portato sul canale e renderlo tra virgolette anche un pochino spiritoso, nel senso come una ASMR artist mangia uno yogurt. Secondo me uscirà un video molto molto carino, quindi guardatelo fino alla fine, va bene? Allora, ho visto questo video da Frivolous Fox ASMR e appena ho finito di vederlo ho detto voglio provare anche io a farlo. Quindi ieri sono andato al supermercato e ho comprato... Ho comprato questo bio yogurt al gusto mela e cannella. L'ho preso perché mi piaceva anche la confezione che non era di plastica, infatti non è plastica. E ho detto facciamo un bel video con questo. Quindi adesso indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Purtroppo in casa avevo solo questo cucchiaino di plastica, quindi userò questo per mangiarlo. Ok, dai, tu sei pronto o pronta? Io sono pronto. Iniziamo prendendo lo yogurt. Facciamo un po' di tapping. Ho deciso che non baderò troppissimo ai rumori esterni perché vorrei che diventassero parte del video. Quindi abbiamo preso lo yogurt, adesso apriamolo. Ok. L'ho aperto e molto liquido. Ok. E' bianco, non so, si può vedere qua sopra. E noi ne prenderemo poco, poco, poco per volta e lo mangeremo per far sentire proprio il suono. Quindi cominciamo. Ok. E' buono, molto buono. Davvero, davvero buono. E' buono, molto 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 buono. Ok, devo stare attento a non girarlo troppo perché finisce che mi cade tutto. Quindi noi adesso piano piano ne prendiamo un pochino così. Si. Sì. 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 è un po' ingombrante da tenere però ce la facciamo ovviamente non a tutti può piacere sentire il suono della bocca che mastica qualcosa o i mouth sounds in generale quindi se questo video non ti piace, non fa per te ce ne sono tantissimi altri sul mio canale che puoi guardare tranquillamente ok stacco questa parte sopra perché mi dà un po' fastidio quando lo prendo, lo muovo che poi la cosa più bella in assoluto sapete qual è è che adesso è circa l'una di notte è passata da poco l'una di notte e io sto mangiando uno yogurt all'una di notte faccio tipo colazione anticipata ciao Sì no 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 Sì ma si dai quanti di voi non hanno mai fatto uno spuntino notturno? Secondo me un po' tutti. Io oggi mangio questo yogurt un po' un po' Sì, sì, sì. scrivetemi se questo tipo di video vi piace va bene perché video dove mangio non ne faccio molto spesso l'avrò ne avrò fatto uno o due neanche mi ricordo che poi stavo pensando io ieri sera sono andata a dormire verso le dieci proprio perché sapevo che mi sarei dovuto svegliare questa notte a registrare però mi sono svegliato a luna quindi vuol dire in realtà che sono andata a dormire tre ore fa ma sembra molto 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 più tempo sono andata a dormire devo sempre stare un po' attento con il respiro un po' attento con il respiro mi starò sporcando tantissimo a mangiare lo yogurt così ma secondo me il modo che fa più suoni vi dovevo dire un'altra cosa solo che mi è passata per la testa che poi per essere uno yogurt secondo me la porzione è molta perché dentro era pieno proprio quasi tutto tutto un po' attento 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 tenere lo yogurt di qua è molto più comodo che tenerlo di qua per mangiare però pure questo orecchio merita di sentire qualcosa quindi un po' attento un po' attento ci siamo già fatti la colazione di stamattina perché effettivamente il giorno rispetto a ieri è cambiato un po' attento un po' attento un po' attento Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Buonanotte, buonanotte. , , ,